Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Questa oggi volevo parlarvi di una storia che si trova nei topolino 2018-2019, pubblicati nel 1994. Mi è venuto in mente per puro caso, sapete quei casi in cui hai un flash in testa, insomma ti ricordi qualcosa. Questo è il caso. Ho controllato che tra l'altro avessi gli albi qui con me, e ce li ho, e quindi l'ho riletta velocemente, ma non perché sia banale, ma perché scorre veramente bene, e ho pensato di portarvela sul canale. Questa è una ulteriore testimonianza di come certi piccoli classici non necessariamente si debbano cercare nei numeri di 50, 60, 70 anni fa. È vero che questi sono due albi del 1994, però per i tempi di topolino sono abbastanza recenti. Come vi dicevo i numeri sono del 2018, pubblicato il 2 agosto 1994, con questa semplice ma bella copertina di paperino alle prese con dei granchi, quindi tipicamente estiva, quindi questo è un albo uscito esattamente 29 anni fa, e quello successivo del 9 agosto, con un super pippo che apparentemente ha poco di estivo, ma in realtà si trova sulla luna a mangiare un gelato e bere un cocktail. Quindi comunque, richiamo estivo, c'è lo stesso. Gli albi contengono delle belle storie, oltre a quella di cui parlerò, per esempio nel primo c'è Quando Ciccio va a fare la spesa, che è molto divertente, nonostante le storie Ciccio solitamente siano un po' così riempitive. Questa me la ricordo bene, perché riguarda addirittura un viaggio nello spazio che fa Ciccio, perché si addormenta, mentre viene mandato dalla nonna a fare la spesa. Poi abbiamo altre storie che non ricordo molto bene, dovrei rileggerle, però sicuramente sono meritevoli. Topolina aveva superato il suo picco, toccato l'anno precedente nel 1993, però era ancora di ottimo livello anche di vendita. In quello successivo abbiamo, oltre alla storia di cui vi parlerò, Indiana Pips e la fallimentopatia, una bella storia di indiana, e poi un altro paio di esse. Tante rubriche, insomma, siamo intorno alle, sempre 196 pagine, come quello degli anni 80. La tiratura era, oh, quasi un milione addirittura, altro che il picco era praticamente stato, era ancora lì. Questo numero qui, 997 mila copie. Quello precedente è idem, insomma, di che stiamo parlando. Oltretutto avevano degli allegati questi albi, io ce li avevo perché non compravo più il topolino, però c'era il topo kit. Se vi ricordate quell'allegato di plastica. Vabbè, comunque. La storia, come avrete potuto notare, è questa, la prima. L'importanza di chiamarsi Papa Ernesto. Liberamente ispirata alla commedia L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, su testi di Carlo Panaro e disegni di Lino Gorlero. Facendo un breve, una breve, diciamo, introduzione, l'importanza di chiamarsi Ernesto fu rappresentato per la prima volta tra il 1895 e il 1896, ed è un'opera molto importante di Oscar Wilde, ed è suddivisa in tre atti. Quindi, in questo caso, questa parodia, che molto si rifà al racconto originale, quindi il grande Carlo Panaro, è divisa in due atti. I due tempi chiamati due atti, uno appunto in questo 2018 e l'altro nel 2019, quindi quello che lì viene rappresentato in tre, qui in due. Il racconto in sera parla di due amici che, per questioni differenti, sono conosciuti con il nome di Ernesto. E questo crea dei disguidi, ma poi alla fine sarà anche la loro fortuna. E la storia, grosso modo, rispecchia questo. Nella Londra di fine ottocento, troviamo questo paperino, che, insomma, vorrebbe riposarsi, ma riceve una visita al suo amico a Genore, che poi sarebbe Paperoga, che però lo chiama Papernesto. Gli dice, sono venuto a consegnarti il cappello che hai dimenticato a casa mia, ma riporta il nome Paperino. Come mai vi so che ti chiami Papernesto? Allora lì lui gli spiega che, in realtà, si chiama Paperino, ma è conosciuto a Londra col nome di Papernesto, perché, essendo pieno di creditori, non vorrebbe che sua nonna, presso cui vive nella fattoria in campagna, venisse a conoscenza di questi suoi guai. Poi, insomma, chiacchierando, viene fuori che Paperino vorrebbe incontrare, perché ne ha innamorato, la cugina di questo a Genore, che si chiama Paperolina. E a Genore dice, guarda, domani organizzerò a casa mia un incontro con mio zio Paperone Bracknell, e che verrà con lei anche Paperolina. Insomma, con la scusa riuscirete a incontrarvi a parlare. Cosa che effettivamente il giorno dopo avviene. Ovviamente Paperone è il ricco snob e affarista, zio sia di Paperolina, ossia Paperina che di Agenore, ossia Paperoga. E nel racconto reale, in realtà, questa Paperolina, che poi sarebbe Paolina, immagino, va con la madre. Invece, in questo caso, abbiamo chiaramente lo zio, perché bisogna inserirlo. In seguito sono una serie di disguidi col Papero, per dei tramezzini, e poi alla fine, insomma, i due ragazzi si dichiarano, perché entrambi pare che si amino. E Paperolina dice, mi sono innamorato di te per il tuo nome, ti chiami Papernesto. Quindi Paperino si sente assolutamente sconfitto, perché sa che il suo nome è finto. Tanto che cercherebbe di convincere anche Paperolina, dicendole, ci sono nomi più belli, per esempio Paperino. E lei scoppia a ridere. A quel punto, interviene Paperone, il nostro Papernesto, chiede la mano della nipote. Ma chiaramente non ne viene concessa, perché è uno squattrinato. Però Paperolina è assolutamente convinta e decisa. Chiede l'indirizzo della fattoria della nonna a Paperino, a Papernesto, in modo che si incontrino lì e possono comunque combinare il matrimonio. Paperino, Papernesto è contento, ma sa che dovrà recarsi dalla nonna prima, perché dovrà risolvere questo disguido del nome Papernesto, spiegare perché viene conosciuto così. Nel frattempo, la mattina seguente, presso la fattoria della nonna, incontriamo lei col sindaco, che poi sarebbe Ciccio, molto goloso, e il sindaco tornerà, perché avrà un ruolo piuttosto importante. Nonna rientra dentro e incontra sua nipote, Cecilietta, che poi sarebbe Paperetta Ie Ie, la quale agogna a sua volta di conoscere un ragazzo di città per sposarsi e andare a vivere in un posto più dinamico. Mentre fuori arriva a Genore, il quale si presenta come l'amico di Londra di Paperino, e quindi Cecilietta crede subito che sia lui Paper Nesto, e così si dichiara dicendo vorrei essere la vostra fidanzata, mi piaci perché ho sempre desiderato che il mio fidanzato si chiamasse Paper Nesto, e quindi si crea il nuovo equivoco anche con a Genore, il quale a sua volta tenterà di convincere Cecilietta che il nome a Genore sia più bello, ma anche lei chiaramente lo rifiuterà. E quindi a Genore non volendo fare indispettire la ragazza che comunque a lui piace, cerca una soluzione, ma in quel momento si sente in lontananza arrivare Paperino. E qui si chiude la prima parte, anzi il primo atto, di questa bellissima commedia di equivoci che è molto simile nella struttura generale all'opera di Oscar Wilde. la seconda e ultima parte la troviamo alla fine dell'album successivo, appunto sempre su testi Carlo Panaro e disegni di Gorlero, Luke e Lino, e riprende nel momento in cui Paperino arriva nella fattoria dalla cugina. Paperoga riesce in qualche modo a non far dire il suo nome al cugino, e poi i due si chiariscono dicendo che hanno entrambi questo problema perché le loro due spasimanti vogliono stare con loro per il nome praticamente. E così a Paperino viene un'idea, andiamo dal sindaco che è un caro amico di famiglia e chiediamo di aggiungere il nome Papernesto ai nostri originali. Il sindaco dopo una serie di riflessioni alimentari, diciamo così, si convince e dice attuerò la procedura veloce per far sì che voi possiate ottenere questo nome il prima possibile. I due tornano a casa felici e contenti, ma nel frattempo arriva anche Paperolina che cerca il suo Papernesto e si crea chiaramente l'equivoco anche qui con Cecilietta, tanto che le due vanno su tutte le furie perché pensano di avere di condividere il fidanzato. Ma nel frattempo arrivano i due amici e scoprono che non intendono la stessa persona quando chiamano Papernesto ma tutti e due e così le due subito si rappacificano, si vede anche molta ipocrisia in questo. quando si accorgono dell'inganno danno uno sganassone ai due sfortunati i quali però e anche questo è abbastanza simile al testo originale si recano dalle dalle due ragazze che nel frattempo sono andate in casa e cercano di spiegare il motivo dell'inganno Paperino dice ho usato questo nome per sfuggire ai creditori e a Genore a sua volta risponde tu hai equivocato Cecilietta ma non volevo insomma indispettirti perché mi piaci e quindi ti ho lasciato credere mi chiamassi così dimostrano di essere comunque in buona fede e tra l'altro a quel punto Paperino dichiara di avere già chiesto al sindaco che entrambi aggiungano il nome Papernesso a loro e così le due ragazze sono felici per questa prova d'amore ma colpo di scena arriva Paperone che ha trovato l'indirizzo della fattoria di Paperino sul tavolo e quindi ha seguito la nipote dicendole non sposerai mai questo questo impiastro e anche a Genore dovrà sposare una ricca redditiera perché avrà una dote consistente quindi il Paper organizza la vita dei nipoti a scapito del loro cuore ma in quel momento arriva il sindaco con gli atti in cui viene dichiarato ufficialmente che i due Paperi aggiungeranno Papernesso come secondo nome ma sembra ormai inutile se non che a un certo punto prima di andar via Paperone si accorge che Paperino ha un cappello che lui conosce in realtà il cappello iniziale che a Genore aveva consegnato a Paperino non appartiene a Paperino ma era di un suo ricco zio che gli aveva inserito all'interno il suo testamento e lo perse per strada senza mai più ritrovarlo infatti Paperino dice sì effettivamente io l'ho trovato questo cappello e Paperone a quel punto è felice perché sa che all'interno del cappello appunto si trova questo testamento e potrà ottenere l'eredità dello zio quindi arricchirsi ulteriormente ma nel testamento è indicato che il suo zio lo zio di Paperone aveva un desiderio gli fu salvata la vita una volta da una persona a lui sconosciuta e non poter ringraziarlo per questo conosceva soltanto il nome e quindi dispone nel suo atto testamentario che avrebbe lasciato l'eredità a chiunque si fosse chiamato come questo suo salvatore ossia Paper Ernesto e quindi si chiude il cerchio i due Paperi sono ricchi potranno sposare le loro amate e Paperone disperato per aver perso le verità e non a Papera a chiosa dice capito l'importanza di chiamarsi Paper Ernesto fine ragazzi bella storia molto affine al romanzo all'opera di Oscar Wilde a suo tempo quando lessi questi albi avevo undici anni e quindi mi avvicinai a questa letteratura quindi ha anche l'importanza di chiamarsi Ernesto ora passatemi il termine serve anche a questo molto bella molto scorrevo una storia veramente divertente l'ho letta in pochi minuti ma si fa con grande piacere si legge in poco tempo proprio per questo Carlo Panaro è monumentale è uno forse l'ultimo grande autore precedente agli anni 2000 che è ancora in attività è ancora molto giovane quindi può ancora riservarci tantissime belle storie tuttora quando sul topo esce una sua storia so già che sarà bella e di solito lo è infatti Gorlero non me lo ricordavo ma avendo questa storia devo averlo già visto anche da qualche altra parte i disegni sono meritori meritevoli e quindi niente ve la consiglio recuperatevela perché è veramente interessante questa storia dei topolino 2018 e 2019 vi saluto commentate pure e ci vediamo presto grazie a tutti